A tutti ragazzi qui Wolf e Jacopo Mii Adesso direi di far vedere la nostra preparazione per andare in miniera Allora sarà un casino perché praticamente non sappiamo minimamente cosa portarci dietro Io direi bistecche Poi un paio di spade di ferro Poi un paio di spade di ferro perché non si sa mai Poi direi dei picconi Altri picconi Allora un attimo Organization Spostiamo tutto quel che non serve Allora torce Sicuro Piccone di pietra E forse ci servirà qualche altro piccone di pietra Piccone di ferro Adesso metti un altro piccone Mettiamo tre picconi di ferro Tanti picconi di pietra E abbiamo finito Allora facciamo così Se li abbiamo finiti ne craftiamo altri Allora prendi la pietra e craftene qualcuno Craftiamone altri Intanto i codici e gli altri Bastoni Bastoni Allora Benissimo Facciamo così No 12 6 Perché così sappiamo subito nel caso di bisogno dove trovare la roba Allora Allora poi torniamo ancora Direi di prendere un po' di carbone Un po' di carbone Si Un po' di carbone Una costruietta di maiali può sempre servire L'argilla non ci serve Carne Il grano Non ci serve Poi cosa è Allora la spada di pietra Ci può servire Ci può servire Mettiamo un po' di carne e marcia Ma tanto non credo ci servirà Perché è marcia Il carbonella mettiamo via Sireno e i quercia servono sempre Mettiamo tanta terra E Un po' di pietrisco Perché la ghaia non ci serve in questo momento Un po' di pietrisco Ma bene che i pietrisco non mi diciamo Ah vabbè Però non si sa mai Così Così Questo qua non serve Il secchio Boh può servire L'ascia di pietra può servire E metti via i semi Non ci servono Mettiamo i semi via E Beh io direi che siamo Pronti per andare Alla missione Allora Partiamo No con tre spade di ferro Sì non si sa mai Allora Partiamo subito Per andare a vedere in miniera Che cazzo è successo Abbiamo fatto un grosso errore Perché? Beh Non si può andare in miniera così In che senso? Beh Eh no Non si può andare in miniera così ragazzi Adesso vi spieghiamo Come si fa ad andare in miniera Ah sì Alla mia maniera Allora Essi al gioco Chiudiamo Naturalmente Facciamo vedere anche Che abbiamo il launcher Che è il K-Net Launcher E abbiamo fatto una Vabbè Ne sta ancora caricando Una grande 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 Vabbè Scoperta Che praticamente Se noi facciamo così Praticamente C'è Troverete questa particolare In modalità Non so X-Ray Qualcuno sa cos'è E se non sbaglio Dovrebbe offrici Dei vantaggi in più Rispetto alla versione Che avevamo prima Non so Vediamo Vediamo cosa succede Noi non l'abbiamo ancora provata È giusto? Ecco Ah non l'avevi ancora attivato Il time Cazzo Te l'ho dato apposta Vabbè Ok siamo pronti Adesso vediamo esattamente Cosa succede Dato che avevamo salvato Il checkpoint Della minimappa Cosa succede adesso? Semplicemente È sparito Ok Però se voi schiacciate E se guardate qua succede Mysterious E c'è sta roba qua Che vi fa vedere tutto Perfino Cazzo quanti mostri Vediamo il lago di lava ricoperto Se si vede Qua ci sono tante torce Là forse No No Questo qua Non so Non lo so Comunque Cazzo Ha la spada di diamante Ci sono degli zombie Con la spada di diamante E non è bello Perché se l'hanno trovata Vabbè Se l'hanno trovata Qualcuno l'ha lasciata lì Vabbè Noi continuiamo a scendere Sperando di non incontrare Allora Vediamo un attimino i mob Se ce ne sono Sulla nostra strada No Per ora no Ah no Aspetta Qua in fianco c'è del ferro Lì Ah no No Attivano un attimo Scendiamo un pochino Non si capisce un cazzo Allora Scendiamo così Vediamo Del ferro Qua Vabbè Iniziamo a scavare Poi tanto vediamo Come si sviluppa In questione Esattamente Una in fianco Allora Un attimino Prima facciamo così Così Verifichiamo anche Se la minimappa Effettivamente L'X-Ray Fa il suo ruvere No No E dall'altro Vado a prova Guarda No Girati No Girati Aspetta Attiva e girati Ah Vedi Sì Prova Sì Cazzeccato Ok Io voglio vedere Che è che è caduto Perché c'è un buco Ah Vabbè Io voglio vedere ragazzi Non so voi Ma io voglio vedere Un bondo Alla fine di questa Di questa nostra serie Senza neanche Senza neanche Un cubetto di minerale prezioso Quindi No Lascialo Lascialo così Perché intanto poi Qua dovremo passarci Sì Allora Un attimo Piano eh Non iniziamo già con le pretesi Che il mio progetto era di andare in miniera per prendere i diamanti E non sta robaetta qua Questo qui era solo un test Per vedere un po' Se funziona il X-Ray Allora Vediamo Il ferro avevo detto che si trovava qua Sì Allora va un pochettino più avanti e poi giù Qua Qua credo Sì Non so esattamente dove Qua Bingo Bingo Cos'è Bingo? Giochiamo a Bingo Giochi a Bingo col Creeper? Sì Io adoro i Creeper No Non esattamente Non proprio Però fa niente Altro ferro Naturalmente io non ci sto vedendo già più niente Eh piassa una torcia Senti Ok qua non c'è più niente direi Quindi Facciamo Alla maniera l'italiana Come al solito Quando noi siamo italiani Com'è che vuoi farla? Ah Allora vediamo un po' Proprio per essere Super precisi Noi facciamo Così Voilà Nessuno sapeva che qua c'era un buco Allora andiamo un po' a vedere Allora intanto Arramiamoci di piccone Anche se Non dovrebbero esserci problemi Tanto di mostri non ce ne sono Vi avanti c'è il tuo ferro Vabbè Non ci serve il ferro Mi domando perché Qua mi risulta Osservate Che ci sia uno zombie con Ah dove c'è il nostro Lavo C'è uno zombie con un Con un arco Visto Una roba strana Ah dai prendi comunque il ferro Ci può sempre servire Dopo dopo Non siamo qui per il ferro adesso Un piano della miniera Che naturalmente dobbiamo ancora Allargare Allora Eh si perché Già non ci capivamo più niente Prima ma Allora Sento un rumore di zombie Anche se non lo vedo Allora là ci sono dei creeper Zombie Lì Direi di andargli incontro Allora ci sono Guarda quanti diamanti Diamanti Sotto alla cosa Lì all'acqua Qui dobbiamo togliere l'acqua Prima Eh vabbè Insomma Diamanti Allora iniziamo ad andare a prendere Lo zombie Allora iniziamo col far così Diamanti Dovrebbero essere circa Scendiamo ancora Ah Ah lì c'è l'apertura Forse Riusciamo Sì passi da qua Passo da qua Ma come Qua non l'avevo fatta Una scaletta Eh no Facciamo adesso Voilà Scaletta No allora Così e così Adesso possiamo salire e scendere Qua È qua È proprio qua Eccolo qua Infatti Eh si vede che È peccato che È perché Nel quadro Ah È vero Perché qua non era BAM passata Era BAM passata No Infatti La piazza Cos'è sto rumore No dietro Cazzo 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 Mai fidarsi tanto Di sti Così Cazzo Un altro No 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 Lascialo Non ti fa niente Ho bisogno di recuperare vita Ho bisogno di recuperare vita Eh Non è facile Ok vai Prendi la spada C'eravamo quasi Cazzo Ok Mai fidarsi troppo Delle x-ray Quindi lo rifacciamo Allora No allora Vai avanti lì Cazzo Che spavento Adesso dobbiamo E direi che abbiamo pure l'armatura Vabbè l'armatura Ti protegge Allora Vediamo No allora più avanti Dove Vedi qua Più avanti Più avanti Madonna Qua che sto ancora tremando È lì praticamente No Cosa sto rumore Eh sono quei cose di parente Quello di vedi Ma cosa sono? Eh non lo so Sono sti cosi qua che fanno Vedi c'è lì sotto Qui Sì Allora adesso Dobbiamo circondare Tutto No togli l'acqua No non è possibile Toglierla È troppo alta Eh no Scusa La circondi Già circondata No No Giusto Allora Perché aspetta Beh scaviamo No con quello di Pino Lo so lo so Il ferro Non mi confondo mai Non dopo quel che successe l'ultima volta No i quali sono tornati all'origine Cazzo che culo che abbiamo avuto Qua Tre o quattro Sì diamanti Che culo Poi ce ne dovrebbe essere ancora Qua infatti Ok qua non ci dovrebbe essere più Uh avanti c'è del loro Vedo ma tanto loro non serve a niente No è distante Lo prendiamo un'altra volta Tanto la X3 c'è sempre Allora Di mostri non ce ne sono più Madonna Mi son preso uno spavento Dove ho messo a fare l'italiano Sì infatti non ho coperto tutto Ok Minchia che spavento Allora adesso no Consiglierei di continuare ad andare avanti Perché questa parte qua mi sembra che non l'avevamo esplorata Sì a me sarebbe piaciuto di più andare di là a vedere un po' Però vabbè Allora secondo me Ah beh scusa Tanto per non passare sempre la solita parte Ok va bene Allora Ciao scaviamo un pochino per recuperare un po' di pietra Giusto per essere proprio precisi Sperando di non incappare di nuovo nel buco di prima No perché è coperto Dovrebbe Ok Ok Comunque aspetta Fai un attimo e Quanti diamanti abbiamo preso No No Io pensavo fossero diamanti E dov'è che sono i diamanti Eh mi pareva che ce ne fossero troppi per essere diamanti Sono più giù allora Dove cazzo sono? Abbiamo preso un mondo senza i diamanti No aspetta Girati un attimo Preghi il ferro qua Un attimo Anche lì sotto Diamanti No niente di diamanti Eh peccato vabbè No aspetta qua sotto Ecco infatti c'è il ferro Magari vai avanti di uno Qui Qui Teoricamente con questa mod qua Il sereno Dovrebbe anche esserci la visione notturna Sì teoricamente La L se non sbaglio Adesso vediamo Vediamo subito Sì Sì Modestamente così ci vedo molto molto meglio Così è È il massimo che si possa avere E la F doveva essere la La fly ma non va Ah beh fai niente Eh si vede che era un altro pezzo di mod No così sì che si vede bene Porco giuro Ok allora direi di andare Aspetta vai a prendere quel Ma io qua ci sono già stato Eh sì C'è un altro C'è uno scheletro E un creep Non posso andarli a prendere No Quindi direi di attirarli verso di me Naturalmente Juhu C'è qualcuno No mi prendono Allora aspetta Andiamo di là Torniamo dov'è che eravamo Cioè Allora prosegui Proseguiamo Ma Ah qua c'è Dov'è che sono allora Aspetta Dov'è la scala che sali No ma Ci siamo teleportati No No sali Non ci sono più Sì che ci sono Ma dov'è che Ah no perché la scala è oltre Dov'è la scala È più indietro È più indietro rispetto a loro Più in qua No perché questa qua Mi è quando l'avevamo vista Disfruggita Ah questa qua Questa qua è quella che abbiamo appena circondato Quindi loro non ci fanno niente Perché se no non ho fatto niente prima Scusa No girati un attimo No Qua perché mi è sembrato di aver visto D'inferno No mi sarebbe sognato Basta visione notturna perché fa cagare Perché Fa schifo Allora Vediamo Andiamo un po' Non so No torna indietro Perché Scusa con la partita Dobbiamo ancora esplorarla di mappa Di No torna Allora qua c'è dell'oro Eh prendilo Visto che purtroppo non abbiamo Ci sono diamanti Eh no ma ci sono sicuramente Eh da cercarli Bisogna trovarli ecco E poi ci doveva essere la resta un finder Con la R Però non fa niente Boh Beh usa la X e basta dai X Qua Ok Un cubetto più in giù Ah ecco Aspetta che scavo bene Dovrebbe essere 4 Dovrebbe essere circa 4 Sono 4 E abbiamo 6 Tu dici circa Se sbaglio ti dico niente Eh si Molestamente 4 Tanto il ferro non si è Ecco neanche ce la dà Tanto il ferro non serve a niente Non serve quasi a niente Vedi che sono 5 Devo essere circa E qua quello lì ha coperto Schiacciatissima No Non c'è più niente No Anche qua l'italiana Ma neanche tanto l'italiana Eh non ci potevo far più di tanto Sti cuffie qua madonna Cos'è che cammina C'è sempre secondo me c'è sempre qualcosa lì No c'è il creeper o lo scherzo Ma te l'ho detto L'altra parte non l'abbiamo esplorata Ci manca un pezzo La parte lì dove c'è la lava Non l'abbiamo esplorata Un attimo c'è qualcosa che cammina Eccolo lì Quelli se non sbaglio Sono gli slime Ah si è Andiamo su di qua Rompono perché fanno casino Si perché sono certamente Ah no è vero il carbone Andiamo a prendere Allora di qua Qua in qualche modo Si sono sicuramente sceso Si No avevi fatto il giro Perché mi ricordo che era stato Quando lì c'è arrivato Il E' stato il scheletro da dietro E c'è arrivato da lì Dall'altra parte Che era quello che c'era qua Me lo ricordo C'era uno scheletro Un creeper qua Tanto 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 Carbone Acqua Si E' il problema Che se rompì il carbone C'era C'era Acqua C'è siamo più questo Vedo vedo Allora E guarda se c'è qualcosa Interessante No C'è soltanto carbone Niente Se vogliamo prenderlo Prendene a qualche altra parte Comunque lì teniamo sempre aperto Si Per evenienza Tanto I mostri non possono entrare Perché è troppo basso Qua riempiamo così Per bellezza Qua scaviamo di uno E ci mettiamo una torcia Faglio di torcia Che tengono sempre lontani i mostri Allora Qua armati gli spada Sempre Perché Oh da lì mi ricordo che avevamo uscire Dall'altra parte Che avevamo scavato un buco Facciamo una scaletta Che è più comodo Si non con Facciamo una scaletta Che è tre volte più comodo Tanto non ci costa niente No Fallo di un alto Cioè Si appunto profondo di un alto Così Così non dovremmo avere problemi A fare una scaletta Sti slime qua Che fanno sto fracasso Che palle Piene di fiori Vabbè La ghia facciamo ancora di uno Un ceferlo Tra l'arga lì Poi Vediamo il ferro Allora Un attimo Che qua Sono preoccupato Non mi convince Sta situazione Ok Così sono più tranquillo Perché Onestamente Non mi piaceva tanto Sta situazione Allora Facciamo così Poi facciamo il ferro Perché ci abbiamo lì Tanto dobbiamo scavarci comunque Ah Siamo in miniera Ma poi te l'ho detto Prendiamoci un po' di ferro Così almeno poi ci faccia L'amato il ferro Si Giusto Perché in modalità estrema Non si sa mai Si La prova migliore sarebbe Faccia in oro In oro no Perché non resiste a niente Fa schifo Facciamo salva niente No Facciamocela in ferro Basta Ok Boom Qua non ci dovrebbe essere Guarda quanto Guarda quanto Ferro abbiamo Vedo Allora Ferro 5 27 27 27 27 Va bene Continuiamo Qua All'italiana sempre Il nostro marchio Lo aspetta La scala Falla di qua No No Chiudermi Facciamo la scala Lì Allora Adesso vediamo Perché Per orientarsi Meglio La scala è servita Proprio lì la dobbiamo mettere Questa torcia Ok Scendiamo di qua Che ne puoi trovare Sì Scendiamo di qua E poi E poi Tanto che ci sei Aspetta Ti va Aspetta Carbone Andiamo a prenderlo Vediamo un attimo Qui c'è un creeper Dove Ah Cazzo Dove prima c'era l'acqua Si è spawnato un creeper Andiamo a vedere Qua Vedi Sì Che figata Magari Che cazzo Dov'è Ah Bastardo 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 Aspetta Aspetta Mangia Mangia Appunto Si però No ce ne sono altri Dove Non lo so però Che panghe Il problema è che cadevi lì Appunto per quello Mi è venuta la cacarella Allora Copro Appunto Allora Lo copro tutto Perché Le zone pericolose In modalità estrema È sempre meglio Prevenire Chi curare Anche perché poi Non si può più curare Ecco Come al solito Un'altra Allora Comunque lì sappiamo Che c'è un creeper Si tanto poi se ne andrà E poi sono sempre Gli slime Anche me veniva Da cagarmi addosso Perché pensavo Adesso cado Però che culo È andata Bene Sempre più dentro Ok Che vada bene Allora poi mi sembra Che lì in fondo C'era Infatti c'è del carbone Andiamo a prenderlo Giusto proprio per essere Perché dopo l'esperienza Di prima Non mi piacerebbe Che succedesse ancora Va bene così dai No Va bene Decidiamo quando va bene Si cadiamo da lì Vabbè Si cadiamo da lì Ti fai male lo stesso Aspetta Vai indietro Un attimo Un attimo Un attimo Ecco lì C'è carbone Un attimo Illuminiamo tutto Perché è sempre Illuminare Siamo qui apposta Per mettere le torce La paratoia Paraculo Antitutto È pronta Allora Poi qua Che è successo È esploso un creep No Non so Vabbè Eh si Perché qua Ha distrutto La mia scala Io faccio sempre Scali fatte così Sti slime Hanno rotto Le palle Per fortuna Che avevo letto Che non attaccano Però rompono Se becco Quello che ha distrutto La scala Vi faccio Passare la voglia Di esplodere Ma stai Già esploso Ma che è sta roba Ecco Distrutto anche qua Allora Siamo qui per manutenzione Dappertutto O cosa Qui Qui abbiamo Creep Zombie Zombie Una strega Da dove è arrivata La strega No Zombie Individuata No Dov'è che No Da un'altra parte Allora Qua c'è una strega Io non so Cosa ci fa Una strega Sotto Aspetta Lì ce l'oro Oro Sì Oh no Fino a quando Si sponano mostri Ovunque Va bene No Dov'è Che è Un blocco Un blocco Di lava Così Cazzo Io certe cose Non le capisco No Guarda che l'oro è indietro Si non apriva il blocco di lava Lì Qui Oh il creeper quasi ci aveva fatto un favore Se arrivava fino a loro faceva meglio Centoblocco di lava che sta già rompendo Ormai rompe tutto Quanto oro No Fai ancora un pezzettino Minchia No Direi di non fare niente qua No Poi andiamo No Perché non si sa mai Prima che scopriamo che cade O vai a prenderla Pitar russa Perché la russa ce n'è E ci serve Ma quanto è profonda Qua Aspetta ti vuoi la visione la tua Giusto Ok Che fa sempre comodo Sento lo slide che si avvicina sempre di qui Ah sono proprio qua Allora Allora Tanto lo slide Ti da fastidio e basta E ne da qualcosa Adesso lo vedo Sbucare fuori Mi ha dato Ancora E' troppo facile fare il minatore con le xray Eh si che lo slime adesso sbuca fuori Allora Qua vediamo se riusciamo qua a risalire Vabbè ci serve Facciamo la scala noi Allora 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 Direi di prendere questa pita russa Poi chiudiamo qua Chiudiamo qua No Prendi la pita russa Un attimo eh Che devo capire come fa a risalire E soprattutto cosa ha combinato Ok Ok Adesso ho capito tutto Fiammelo Non ho capito tutto Purtroppo Purtroppo per una regione che dobbiamo ancora capire Non possiamo avere la Fly mod No gli xray e la minima No vabbè Normali Non sono compatibili Uh ancora Poi adesso Un giorno cerchiamo di rincazzarne anche di altri Di modo Si sicuramente Allora Qua 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 E' comodissimo soprattutto per vedere i mostri Eh anche i minerali non devi andare in giro Si Alla cieca Che cazzo Sono l'unico che si è buscato uno spavento Si Ah ecco C'è ragione anche lui Allora qua chiudiamo Ok lasciamo qua Lasciamo E scappo Scappo Perché mi sto ancora cagando addosso Ehm Chiudiamo il buco qua Che tanto non c'è più niente Lì in basso L'italiano Cresci Ok Quindi idea è di chiudere qua Bella a tutti da Jacopo Mi E da Wolf Nella prossima puntata Continueremo la sua separazione Ciao